Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo pass partita, oggi commentiamo Samb, basta girar di 1-0, sono tutto rosso non perché sono rosso ma perché è la luce del merda della luce Comunque, 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 abbiamo vinto 1-0, la gara di recupero, tre punti fondamentali Però, però, c'è un però, c'è un però, perché la gara di oggi ragazzi a me non è che ha fatto schifo Ma qualcosa di più, ma non tanto perché la Samb ha giocato male, cioè sì, qualcosa sbagliato E' ok, però, una partita lenta, lenta ma lenta, i giocatori immobili che non si muovevano Cioè, una roba, non mi è piaciuta, a me non mi è piaciuta E, venendo dalla tribuna, insomma, non mi ha fatto entusiasmo più di tanto Però, è stata una vittoria molto furba, molto furba e molto sveglia Perché, il dottor Vincenzo Lisi, insieme al dottor Luca Lulli E, per finire, il dottor a Metfall Grazie a un calcio d'angolo battuto velocemente Ha fatto gol E abbiamo vinto, tre punti E, vaffanculo E, vaffanculo Ragazzi, permettetemelo, perché oggi il livello di godura è alto Io, sincero, pensavo che oggi perdavamo o pareggiavamo Però, tre punti così Guarda, va benissimo Per tutte le partite che abbiamo pareggiato Con fuori giochi inesistenti E, con tanti altri cazzi che meritavamo rivincere E così Oggi abbiamo fatto una partita un po' così Ne, ne, ne Che non era bellissima Però abbiamo vinto A me va bene A me va benissimo Va benissimo Senza alcun tipo di problema Tre punti importanti Voi mi direte Vabbè, ma siamo almeno uno dei playoff Adesso ci arriviamo a me Sincero Sono ancora preoccupato per sotto No, una volta che raggiungiamo la salvezza Ok Poi Se vogliamo pensare i playoff Vedremo Però al momento Al momento Dobbiamo stare lontani da quel di sotto Al momento Poi Oh Se ci avemo culo Che tutto ci va bene E ok Che meritiamo sul campo E andiamo ai playoff Io sono il primo a godere E fa festa A me frega un cazzo Però, ecco Ora il fatto è questo Abbiamo due partite in casa Con Notalesco e Montegiorgio Mi pare Non vorrei sbagliarmi Con Notalesco sicuro Sarà una partita Di una cosa Incredibile Difficilissima secondo me Quindi domenica Venite tutti allo stadio Prima cosa Perché il pubblico Fa la differenza E si vede E si vede Oggi non è che ci stava Tutto sto pubblico Però I carissimi tifosi Della Curva Nord Come al solito Incredibili Oggi secondo me Hanno fatto la differenza Perché Sembrava che cantavano 2000 persone Ragazzi Non lo erano Quindi Quindi così E secondo me Se domenica viene un po' di gente Ci divertiamo Ci divertiamo E niente Detto questo Ragazzi Sono un po' dispiaciuto Per La prestazione Lui Lui Ha il pinguino Il pinguino Dei pinguini E chi lo sa È un boss È un boss Che è il pinguino Dei pinguini È proprio lui Luca Tomas Ragazzi Oggi ho fatto un partitone Oggi ti anticipo Su ogni cazzo di palla Il dottor Guida Oggi Oltre a due palle Messe in mezzo Non ha fatto un tiro in porta Niente Che abbiamo rischiato È Tipo l'ultima occasione Gallo Gallo Il 18 loro Mamma mia Quella palla L'ho vista dentro Ragazzi Ma più di una volta Due tiri di Alagia Dalla destra Verso La sinistra Cioè Da destra Rientrato sul sinistro Tiro sul secondo palo Quasi spento tutto Vabbè E Raga Non so di quanto Non è entrato Quel pallone Intanto sto passando Il pullman Del vasto Girardi Un saluto Un saluto E Comunque Grande formazione Allora A me piace tanto Il loro mister Il signor Fabio Prosperi Grande allenatore Secondo me C'ha un grande futuro E Wow A me piace Come ha messo in campo La scuola Mi è piaciuto un botto Tanta roba E Segnatevelo Fabio Prosperi Perché poi Ne riparleremo Tra qualche anno Vabbè Comunque A parte sta roba Che stava di Sì Due tiri di Alagia Che sono finiti Di poco Sul palo Uno mi pare Che era di Salatino Mi sembra E poi Quello all'ultimo Di Gallo Raga Un pallonetto Lì è proprio stato Stupido Ma meno male Ha fatto una cazzata Incredibile lì Perché bastava un tiro Poco poco più forte E la palla Entrava angolato Era gol E pareggiavano questi E Però meno male Che ha colpito Il pallone troppo Troppo sotto E anche un po' debole Ci siamo salvati Poi ci siamo salvati Di brutto Poi abbiamo colpito pure Due traverse La prima con Frulla Su calcio d'angolo Nel primo tempo Sì E poi ragazzi Cardella Che traversa Ha preso il cardellone Nazionale Ragazzi Ha fatto un tiro Dal limite Dell'aria Ha tirato con sinistro Un cazzato nero Traversa Linea Mi pare Traversa Vabbè L'ha presa sicuro Traversa piena Mamma mia Ragazzi Entrava quel gol Era il gol Della stagione Era il gol Della stagione Guarda Non glielo è standa Beh Una a quel ragazzo È incredibile È incredibile Vabbè Comunque Ora festeggiamo Ok Per queste ultime ore Poi quando è mezzanotte Si comincia a pensare Al notaresco Ragazzi Quella non è una partita semplice Quindi niente Testa domenica Felice per la vittoria E dai A cazzaduro